Momenti di disagio questa mattina presso l'istituto scolastico Gianni Rodari, di via Ferdirando I per la mancanza di due collaboratori scolastici. I genitori e i loro bambini hanno atteso per diverso tempo fuori dai cancelli fino all'arrivo di un collaboratore scolastico di un altro plesso dello sesto istituto. Pronto l'intervento del dirigente scolastico che ha sistemato la faccenda e fatto iniziare regolarmente le lezioni. Si tratta di una situazione sgradevole, chiaramente non dovuta e di cui abbiamo poche responsabilità in quanto i due collaboratori scolastici che dovevano essere in servizio uno alle 7.30 e uno alle 8 sono risultati tutti e due ammalati stamattina. Fra l'altro uno dei due non ha neanche comunicato lo stato di malattia, siamo stati noi a dover informarci sul motivo dell'assenza. Naturalmente in questi casi scatta un piano d'emergenza che è partito un po' in ritardo. Il collaboratore scolastico è stato tolto da un altro plesso, creando di servizio quindi anche in quel plesso, ed è stato mandato al plesso Gianni Rodari. Ha aperto il cangello, ha aperto la bussola ma la chiave non funzionava. Di conseguenza abbiamo dovuto recuperare un'altra chiave e aprire, che vuol dire che alle 8.15 si è potuto entrare in classe regolarmente. Naturalmente a questo segue tutta una serie di operazioni, come quella di chiamare due supplenti, due supplenti che venendo dall'ambito Caltanissetta, che va da Mussomeli a Marianopoli a Villalba, ci ha permesso di trovare due collaboratori scolastici, uno di Marianopoli e uno di Villalba, che sono arrivati naturalmente uno alle 9 e uno un quarto d'ora fa.